Trieste è pronto ad accogliere Papa Francesco nella sua prima visita al termine della settimana sociale per seguire la messa di Piazza Unità anche un maxi schermo a San Giusto. Da addestramento al vero soccorso in mare per i vigili del fuoco ieri notte davanti Piazza Unità l'uomo recuperato è un quarantenne di origine indiana. La fa le ore contate, l'ARPA prevede sulla regione ritorno di piogge temporali anche forti, allerta di colore giallo dalla protezione civile. Oggi termina il mercato tutelato per l'energia elettrica, da domani si passa al mercato libero, previste tutele graduali per tre anni, per over 75 disabili e altri vulnerabili non cambia nulla. Il Teatro Rossetti e il Verdi in cena ieri sera a Miramare con il Werther di Goethe, con casellati sul podio e la voce di Sergio Rubini per la partenza della rassegna estiva. Buonasera dal telegiornale di Telequattro. La comunità di Trieste si prepara ad accogliere Papa Francesco nella sua prima visita in città al termine della settimana sociale della Chiesa che sarà inaugurata dal Presidente della Repubblica, Mattarella. Vediamo il servizio. In modo presenziale, come abbiamo organizzato in questi ultimi mesi, sarà in piazza Unità, con i limiti che ha la piazza perché purtroppo non c'è spazio per tutti e quindi per questo motivo chi non ha avuto la possibilità di registrarsi per tempo e di chiedere un pass per partecipare alla Messa di Papa Francesco potrà seguire, per esempio qui in cattedrale, la celebrazione eucaristica in uno schermo che verrà predisposto nel Tempio in modo tale che chi vuole avvicinarsi domenica prossima potrà anche seguire, partecipare comunitariamente alla celebrazione a conclusione della quale un Ministro dell'Eucaristia sarà disponibile anche per distribuire la Santa Comunione. Celebrando oggi la Santa Messa in cattedrale, Padre Luis Oculi, che è responsabile dell'organizzazione della settimana sociale della Chiesa Trieste, ha parlato a lungo degli importanti appuntamenti che ci attendono fino a domenica prossima quando la Messa sarà celebrata da Papa Francesco in piazza Unità perché è rimasto senza il pass, ci sarà dunque anche la possibilità di seguirla dal Maxi Schermo a San Giusto e i fedeli si stanno già organizzando, prendendo in considerazione anche le nostre dirette dell'evento. In piazza Unità non possiamo venire perché non abbiamo il pass, allora stiamo studiando se venire a San Giusto di nuovo oppure se vuoi guardare direttamente per Telequattro perché a un certo punto ho fatto delle riprende veramente molto belle. Al termine della Messa odierna a San Giusto abbiamo raccolto anche alcune voci di fedeli che attendono l'arrivo di Papa Francesco. Penso che parteciperemo e troveremo, abbiamo dei posti anche ma penso in piedi. Noi abbiamo già vissuto la precedente visita del precedente Papa quindi che ci sostenga con le sue preghiere perché noi facciamo che possiamo chiaramente, è un livello più su. Cosa mi aspetterei? Che ci portasse un poco di serenità, un poco di intelligenza serena che ci faccia capire che siamo qui e che è inutile che ci prendiamo a pugni e questo non solo a Trieste ovviamente in giro, io ho capito che lui viene a Trieste e parla con noi, anche noi abbiamo bisogno di serenità. Forse avremmo occasione e mi auguro che porti un messaggio che serve più di un'altra cosa adesso un messaggio di pace a Trieste ma anche in generale per tutto il mondo. Apriamo la pagina della cronaca dall'addestramento al vero e proprio soccorso di un uomo in mare accaduto ieri notte nello specchio acqueo davanti a Piazza Unità. Protagonisti i vigili del fuoco, l'uomo recuperato e un quarantenne di origine indiana caduto in mare in stato di forte alterazione alcolica. Vediamo. Una semplice esercitazione di routine si è trasformata in un soccorso in mare vero e proprio per i vigili del fuoco di Trieste che ieri sera hanno salvato un uomo caduto in mare a largo di Piazza Unità. Si trovavano in mare per addestramento notturno con la motobarca WFS002 nei pressi del molo Pescheria quando gli specialisti nautici del comando vigili del fuoco Giuliano sono stati chiamati dall'equipaggio di uno yacht che indicava la presenza di un uomo che annaspava in acqua tra il molo e la stessa imbarcazione. I vigili del fuoco hanno rapidamente avvicinato l'uomo e l'hanno issato a bordo della motobarca dove hanno anche tentato di tranquillizzarlo. Una volta arrivata sul posto un'ambulanza immediatamente chiamata i sanitari hanno preso in carico l'uomo in evidente stato confusionale e lo hanno trasportato all'ospedale di Cattinara per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono successivamente giunti anche il personale della Capitaneria di Porto e i carabinieri. Ancora cronaca, quattro adulti e un bambino di soli nove mesi portati in salvo dagli uomini della Guardia Costiera di Grado al Bando d'Orio dove erano finiti spiaggiati a causa della forza del mare che li aveva sospinti verso la lingua di sabbia. Il soccorso è stato effettuato dagli uomini di Circo Mare Grado che sono accorsi con due battelli con i quali possono navigare anche in fondali abbastanza bassi. Le cinque persone, tutte residenti a Grado, sono state portate sane e salve a terra fino in porto solamente un po' spaventate per quanto accaduto loro. Altre quattro persone sono invece finite in secca a bordo di una pilotina all'altezza di Primero. In questo caso intervenire assieme ai marinai della Guardia Costiera sono stati anche gli uomini della motovedetta dei carabinieri. Una ventenne triestina è stata soccorsa verso le 12.30 di oggi dopo essersi infortunata durante la traversata del sentiero del re di Sassonia nelle Alpi Giulia. a una quota di circa 1.300 metri. La giovane era in compagnia di altre due escursioniste inciampata probabilmente su una radice o su un sasso cadendo sul posto e procurandosi la frattura a un arto inferiore. Il punto in cui è avvenuto l'incidente non era fortunatamente uno di quelli esposti ma si trovava in un tratto più in discesa tra i due punti del percorso attrezzato con il cavo. Non riuscendo più a proseguire per il dolore è stato chiamato il 112 e quindi si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La ragazza è stata consegnata all'ambulanza a Tolmezzo. Partenza per la crociera da Trieste più movimentata del previsto per i circa 180 turisti tedeschi saliti a bordo di un charter stamattina ad Hamburgo. Il charter Hamburgo-Trieste è riservato ai croceristi della Mainchaff, Schiff, scusate, attraccata sulle rive e atterrato al Trieste Airport con un'ora e mezza di ritardo alle 12.20 anziché alle 8.50. Motivo del ritardo? Un atterraggio d'emergenza a Monaco. Nulla fortunatamente di preoccupante, ha detto la D del Trieste Airport Marco Consalvo. L'emergenza in volo non è stata dichiarata a causa di un'avaria ma perché un viaggiatore ha accusato un malore. Il comandante ha così preferito atterrare nello scalo più vicino per consentire soccorsi e poi riprendere quanto prima la rotta verso Trieste. Allerta meteo di colore giallo su tutta la nostra regione dalla montagna alla costa per la giornata di domani previsti temporali anche forti. Vediamo. Dopo qualche giorno di caldo e afa tornano i temporali sul Friuli Venezia Giulia. Un'allerta meteo di colore giallo in regione è stata diramata dalla protezione civile a partire da oggi e fino alla mezzanotte di domani, primo luglio per piogge abbondanti con temporali diffusi. Sono previsti anche stasera possibili rovesce, qualche temporale in montagna, in pianura e c'è la possibilità che qualche isolato fenomeno sia particolarmente forte. In particolare nella giornata di domani, primo luglio, il tempo sarà instabile con probabili rovesce e temporali diffusi con piogge anche abbondanti. più frequenti in pianura e in montagna. Sarà anche possibile qualche temporale forte con piogge localmente intense. Il verificarsi di questi eventi meteorologici, ricorda la protezione civile, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, interruzioni della viabilità e problematiche connesse e possibili colpi di vento durante i temporali. Ed erano sparite dalla superficie del mare dopo il vento forte di qualche giorno fa che aveva spazzato appunto il mare rimescolando le acque anche a qualche metro di profondità. Oggi però le mucillagini, come vedete da queste immagini, si sono ripresentate sotto costa Trieste, sono ben visibili sia sulle rive dove gli accumuli si sono riformati, in particolare accanto ai moli, anche se nelle quantità enormi registrate, non nelle quantità appunto enormi registrate nelle settimane scorse e lungo tutta la costa da Miramare alla città. La superficie del mare di colore grigio-verde che emana anche un olezzo è ben evidente, nuovamente si prevede che la situazione non sia destinata a cambiare nelle prossime ore, mentre domani, su tutto il Friuli Venezia Giulia, come abbiamo appena sentito, è attesa una perturbazione che dovrebbe portare ai temporali e quindi un fattore meteorologico che potrebbe aiutare a rimuovere le mucillagini. Bollette della luce, mercato tutelato, addio. Da domani 1 luglio scatta il regime del mercato libero. Le tutele rimangono per i clienti domestici definiti vulnerabili. Ne abbiamo parlato col presidente di Federconsumatori, Angelo D'Adamo. Con il 1 luglio, mercato liberalizzato per l'energia elettrica. Il gas, come ricorderemo, è accaduto già con il 1 gennaio di quest'anno. Per tanti che nella propria bolletta trovano scritto, perché tanti neanche sanno questo, quindi sono un po' disattenti, che sono nel cosiddetto mercato maggior tutela. Mercato tutelato, pagina 3 della bolletta. Dove si trova questa dicitura, che cosa accadrà per questi cittadini, per queste persone? Con il 1 luglio saranno riforniti di energia elettrica, non più dalla società attuale, che naturalmente noi stiamo a Trieste e parliamo di Trieste, che è energia base del gruppo ERA. Passerà invece la sua fornitura ad un'altra società che è Enel, Enel Energia. Società che nella nostra zona ha vinto un'asta, una gara che è stata fatta, quindi è stata giudicata su questo nostro territorio. Come si chiamerà quel tipo di servizio? Si chiamerà servizio a tutele graduali. Sarà in vigore per tre anni. Per tre anni chiaramente è una condizione di mercato mista, molto regolata comunque dall'autorità, da RERA, e in parte anche naturalmente dall'organizzazione societaria di Enel in questo caso. Per tre anni ci sono un certo numero di categorie di cittadini così definiti vulnerabili, sostanzialmente sono gli ultra 75 anni, chi riceve in bolletta un bonus, vuol dire che ha un disagio economico, e chi ha un riconoscimento di invalidità secondo la legge 104 del 1992. Ecco, quindi per queste categorie di persone sostanzialmente non cambierà niente e in automatico comunque continueranno ad avere una fornitura sempre dallo stesso fornitore. È operativo e aperto al pubblico Trieste Campus, la cittadella dello sport di Via Locchi, nata dalla collaborazione fra pubblico e privato. Vediamo il servizio. Dopo i primi giorni di rodaggio, avviate le iscrizioni lo scorso 24 giugno, Trieste Campus è ufficialmente aperto al pubblico. La palestra per le attività di training, la sala corsi e tutti i campi esterni, padel, pickleball, tennis e il playground per pallacanestro e pallavolo sono attivi e operativi. È stato un lungo viaggio fin qui, ha commentato Enrico Samer, presidente di Trieste Campus. Ci abbiamo messo tanta energia per arrivare oggi ed è davvero una grande soddisfazione vedere tutti gli spazi aperti al pubblico e fruibili, dedicati ai triestini che amano lo sport. Trieste Campus ha avviato anche il primo calendario di corsi dal full body con la ginnasta Federica Macri al tonic postural concept fino al functional workout e a varie tipologie di yoga, mentre la palestra diretta da Gary Lidav è aperta al pubblico ogni giorno, lunedì, giovedì dalle 7 alle 21.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 21.30 e sabato dalle 9 alle 15. Attiva anche l'app per smartphone Trieste Campus attraverso la quale si prenotano i campi esterni. Anche il primo piano dedicato alle associazioni sportive che fanno parte della struttura si sta animando. Tutte le informazioni sulla struttura, i prezzi e le attività in corso sono presenti sul sito web triestecampus.com e sull'app per smartphone. I musei in Portovecchio come quello del mare o quello della civiltà estriana vedono rallentare le fasi di completamento anche per questioni burocratiche e servirebbe un nuovo impulso ai lavori. Lo dice ai nostri microfoni l'assessore alla cultura del comune Giorgio Rossi. Dobbiamo puntare anche a sistemare alcune infrastrutture perché insomma deve esserci nei musei quello che funziona, l'ascensore che funziona, il punto di ristoro. Non c'è museo all'estero che tu non vai a prendere su un bicchiere di danciata o qualcosa o mangiare uno spuntino. Noi queste cose non le abbiamo e il problema ad esempio è il Portovecchio. Nel problema del Portovecchio io mi sono sempre domandato se è nato prima l'uovo e la gallina. Allora il Portovecchio che dovrebbe essere una delle nostre punte di diamante aspettiamo ancora la fine di alcune cose che purtroppo hanno avuto code insolute per vari motivi che sono qui a sottolineare. Dobbiamo completare una serie di strutture museali. Faccio un esempio, non è ancora finito il museo civico per la cultura istriana e frumale d'albata. Ci manca poco, però manca ancora questo, manca ancora quest'altro. Abbiamo sempre sfondato di mesi. E poi c'è l'operazione del grande museo del mare che è un'operazione sulla quale ci aspettiamo molto ma non vedo la velocità di una volta in cui effettivamente le imprese ci mettevano molto più impegno. Oggi c'è un riflesso soprattutto burocratico di una lentezza che invade un po' tutti i settori e quello dell'edilizia è uno dei tanti. Intanto procedono i lavori del costo di circa 160 mila euro di abbattimento della vecchia ciminiera dell'ITIS che permetteranno di guadagnare spazio per l'istituto per gli anziani. Abbiamo sentito su questo il presidente dell'ITIS, Aldo Pacor. Sono in corso i lavori per l'abbattimento della famosa ciminiera. Allora, a che punto siamo? Siamo arrivati a metà. È un intervento molto importante perché era alta, 55 metri. Quasi 5-6 anni fa è caduto qualche pezzo di cerchiatura. Poi abbiamo detto cosa facciamo, cosa non facciamo. Poi non serviva più effettivamente perché abbiamo cambiato tutte le caldaie e quindi è partita la demolizione. Un costo importante, 160 mila euro. Tenete conto che c'è una piattaforma a 55 metri in mezzo agli edifici, quindi non si sono potute usare mine e quant'altro. E poi non era vincolata la superintendenza, quindi non è stata cerchiata e recuperata come quella della centrale idrodinamica, per esempio in Portovecchio. Ma abbiamo deciso anche di demolirla per liberare spazio ai suoi piedi. I teatri rossetti e verdi sono andati in scena ieri sera a Miramare con il Werther di Goethe insieme alla voce di Sergio Rubini per la partenza della tradizionale ormai rassegna estiva. Vediamo. Una serata inaugurale davvero suggestiva, quella di ieri per l'avvio della rassegna estiva Il Rossetti a Miramare, accompagnata da un intreccio di musica, recitazione e bellezza. Un'armonia che esprime la consolidata collaborazione tra il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, per il secondo anno impreziosita dalla prestigiosa sinergia con la fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Il melologo proposto in apertura di questa edizione reinterpreta liberamente il celebre Werther di Goethe ed è opera di pieno 700 del compositore di corte e direttore della Cappella Reale dei Savoi a Gaetano Pugnani. Autore spesso dimenticato nella programmazione dei grandi teatri europei, ma di solida impronta classica a mediare tra tradizione italiana e scuola viennese e tedesca. Dunque un lavoro raro da ascoltare che ha visto ieri sera l'orchestra del Teatro Verdi di Trieste esibirsi diretta da Alvise Casellati, affermato direttore padovano, frequente ospite della Felice di Venezia e dell'Arena di Verona, nonché figura di spicco del panorama musicale new yorkese, dove ogni anno tiene un fortunato recital dedicato all'opera italiana Central Park. Aver lasciato te che amo tanto, te da cui ero inseparabile, e sentirmi contento. Sergio Rubini, interprete e icona del cinema italiano, pluripremiato attore, sceneggiatore e regista, che anche al palcoscenico regala le proprie abilità espressive, l'incisività e la passione, ha dato voce alle intense parole dell'opera di Goethe. Che ogni cosa qui intorno dà luce di paradiso. Siamo in conclusione, vi ricordo che domani mattina a Sveglia Trieste, con inizio alle 7, avremo poi ospiti in studio, da prima Nicole Matteoni, deputata di Fratelli d'Italia, e poi Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.